Questa pubblicazione ha parecchi anni. Quest'anno celebriamo il centenario del nome, perché sono cent'anni esatti che l'annuario pontificio si chiama Conquestonano. Prima ha avuto vari nomi stampati anche fuori dal Vaticano ed è prezioso in quanto, in base proprio alla crescita o alla diminuzione, evidentemente si fanno progetti pastorali. I numeri sono molto aridi, però hanno una loro immediatezza di comunicazione. E qui li troviamo, ma troviamo soprattutto poi le varie categorie di operatori pastorali che qui sono un pochettino segnate, un po' tutte, dai cardinali fino a sovore, religiose, religiose eccetera, curia romana. Nell'aula di Palazzo Lascaris il 16 marzo è stato presentato alle autorità piemontesi l'annuario pontificio 2012, libreria editrice vaticana, nel centesimo anno di pubblicazione con tale nome. Ha moderato Ezio Ercole, vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte ed è intervenuto Monsignor Vittorio Formenti, incaricato per l'Ufficio Centrale di Statistica della Santa Sede. Oltre all'elenco di tutti i papi del passato e dei componenti delle congregazioni romane, si trovano nell'annuario i cardinali e i vescovi di tutto il mondo, le diocesi, le missioni diplomatiche apostoliche, le ambasciate accreditate presso la Santa Sede. e dati statistici riferiti all'anno 2010 forniscono un'analisi sintetica delle principali dinamiche riguardanti la Chiesa Cattolica.